dunque buonasera a tutti questa sera non posterò una canzone ma bensì posterò un diciamo così un mini tutorial di come si può cominciare a imparare a suonare la chitarra in maniera molto semplice quelli che sto per dirvi non è propriamente un l'insegnamento diciamo le basi dell'insegnamento della chitarra è una base prettamente mia personale con la quale io ho imparato più un piano ad ad imparare dunque cominceremo per fare il primo giro di la minore includendo la minore do sol re con le stesse quattro note si può fare benissimo una canzoncina molto carina ora la sto improvvisando guardate la minore quella sera sol ora tornando di nuovo è la minore c'eri tu sol do ma non c'era il tuo cuore re cominciando da capo noi la faremo così capito ora io vi consiglio di fare di diciamo di studiare in questo modo qua queste quattro note per diciamo per un giorno un'ora e mezza e vedrete che piano piano imparerete ora vi faccio vedere meglio guardate la minore con l'impegno con la perseveranza si imparano a sonare note scusate i soli do re quindi insieme la minore la minore guardate la minore la minore questo è la maggiore ma ne impareremo poi se vi piacerà poi se a secondo le visualizzazioni e like che metterete e consigli sui messaggi così mi renderò conto se vi piace questo metodo di chitarra o meno e allora continuerò a farlo comunque tornando a noi la minore la minore la minore sol do tre al contrario sol do la minore tornando adesso a capo quella sera sono andato a casa tua ma non c'era il tuo cuore voi vedete esercitare in questa maniera qua per l'ora e mezza e due al giorno soprattutto i ragazzi e quelli che vogliono imparare a suonare la chitarra almeno io credo in questo modo ripetendo queste quattro note essenziali ma molto pratiche con le quali vi dico appunto potete fare diverse belle canzoncine la minore la minore sol do re invece è arpeggiata quella sera sono venuto a casa tua ma non sono venuto ma non c'era il tuo cuore vedi questa canzoncina appena appena inventata ti rende pratico la musicalità delle note comunque cominciate con queste quattro note poi fatemi sapere nei messaggi nelle visualizzazioni se vi piace io continuo a postare i tutorial questo poi lo chiamerò mini tutorial ok la minore ricordatevi sol il sol sarebbe questa in realtà però è più semplicato in questa maniera quindi di nuovo la minore sol do re ok fatemi sapere con i like con le iscrizioni con le visualizzazioni e io mi tratterò per fare i tutorial che questa in una maniera molto semplice però molto pratica per imparare a suonare la chitarra ok per adesso è tutto un abbraccio grande a tutti voi grazie di tutto e per tutto grazie ciao ciao